È necessario un rilancio del territorio che coniughi la tutela ambientale con gli interessi dello sviluppo economico. Così l'assessore all'urbanistica di Cesena, Cristina Mattoni, nel presentare in consiglio comunale l'istanza di Arca, 5 ettari in aperta campagna che l'azienda vorrebbe trasformare in un grande capannone con delle celle frigorifere. Non era un passaggio obbligato, ha specificato nel discorso, ma l'abbiamo voluto fare lo stesso, per trasparenza. Il riferimento è alle tante proteste avvenute nei giorni scorsi contro il progetto. Contrario il gruppo Cesena Siamo Noi e il Movimento 5 Stelle, assieme anche ad ambientalisti e residenti della piccola frazione di scuole e case vecchie, dove forse sorgerà la struttura. La posta di intervento, questa realtà economica, andrà a incrementare una vocazione che è già consolidata nella nostra città, ossia quella logistica. È consolidata nel tempo e soprattutto va a confermare quello che è il ruolo di Cesena come centro strategico rispetto all'intersezione di infrastrutture primarie, rispetto a cui peraltro questa localizzazione si trova molto prossima, facendo sì che quindi possa essere un elemento da valutare anche favorevolmente in termini complessivi di carico e demissioni, in quanto la gran parte dei mezzi comunque che arrivano a questo centro escono dal casello di Cesena Nord e quindi attraversano la viabilità dell'area industriale e non attraversano la città. Il primo passo è stato compiuto, delibera approvata col voto di PD e Cesena 2024. La strada da fare però è ancora lunga.